E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e ultimo video della serie di supercardi di questa quarta stagione Domani finalmente arriverà l'aggiornamento che ci teletrasporterà nella quinta stagione Nuove carte, nuove novità ragazzi E nuove novità? E davvero non vedo l'ora ragazzi di cominciare questo nuovo anno Onestamente non so quando ci sarà l'aggiornamento che ora, di solito lo fanno sempre intorno alle 6 del pomeriggio Quindi aspettiamoci comunque manutenzione di server e quant'altro intorno a quell'ora Quindi se tutto va bene riusciremo a giocare in serata Spero che non succeda come l'anno scorso che riusciremo appunto, riuscimmo a riaprire il gioco a notte inoltrata Con tutti i problemi che ci furono veramente Un inizio di stagione completamente sbombolato Mi ricordo la King of the Ring che era la nuova King of the Ring Non riuscivamo proprio ad aprirla Cioè non lo trovavo ai giocatori C'era chi prendeva ricompense ultra raro essendo anche il livello titano per esempio Altri problemi ragazzi era la riscossione delle ricompense in King of the Ring Che rimaneva bloccata lì praticamente quindi non potevi né finire il ranking of the ring Né riavviarne una nuova Le ricompense quelle con i ticket non te le davano perché non riuscivi a finire il ranking of the ring E a caricare le energie Anche il problema delle energie Vabbè lasciamo perdere Poi altri problemi nella lega ragazzi Avevo minciato questa nuova unità a lega La prima era la war che sarebbe stata appunto la rank mode che c'era stata finora E il problema è che dopo 7 giorni di combattimenti Le classifiche Parite Giocatori che avevano finito in prima posizione si trovavano appunto fuori classifiche Quindi le ricompense rimandate di giorni e giorni Infatti per arrivare poi al prossimo evento che era l'Elimination Chamber C'è voluto un'altra settimana quasi Quindi diciamo che l'inizio della quarta stagione Era molto molto difficile Io spero che questo nuovo update non porti tutti questi problemi all'inizio Insomma perché Ora vabbè tante aspettative come abbiamo detto Non è che ci siano Abbiamo l'inizio che ci saranno questi tre nuovi livelli Neon, gotico, neon e distruzione Adesso non so se si chiamerà distruzione però in inglese è shuttered Quindi non lo so potrebbe essere distruzione La traduzione è questo E per il momento non è che sappiamo tantissime altre cose Sappiamo che ci saranno un nuovo evento Ci saranno altre novità nel corso della stagione Quindi per il momento abbiamo soltanto questi tre nuovi livelli E stop L'anno scorso invece c'era molto più hype Forse per nuove modalità e tanto altro Comunque vabbè 24 ore di tempo e vedremo tutto quanto ragazzi insieme Ad ogni modo torniamo a noi Siamo qua nell'ultimo Negli ultimi eventi anzi Di questa quarta stagione Le due Ring Domination Stone Cold Steve Austin in team E il nostro secondo Seth Rollins in singolo Seth Rollins ragazzi Non sono riuscito a prenderlo nella scorsa Road to Glory Sono riuscito a portarmi a casa ok Il nostro Sam islam 18 Roman Reigns Purtroppo tra compleanni e tant'altro Non sono riuscito a completare La rotto glory per mancanza di tempo Avrei avuto bisogno di un altro giorno in più Per poter portare a casa anche Seth Rollins Devo riuscito a prenderci questa fantastica carta qua giù Che appena la troviamo Eccola qua Roman Reigns Signori Ottima Sam islam 18 E stop Purtroppo tra l'altro l'ultimo reset Un altro Bobby Lashley Però vabbè A parte questo Dove vorrei andare un po' a parlare quest'oggi Perché Abbiamo discusso anche negli scorsi video Le carte che verranno rimosse Nel prossimo appunto Nella prossima stagione di Supercard E quindi già da domani Che cosa succede? Adesso parlo prevalentemente anche Ai veterani di Supercard Che hanno giocato fin dalla prima stagione Della primissima stagione Proprio agli albori di Supercard E si ricorderanno senz'altro Che con la fine Della prima stagione E l'avvento della seconda Tutte quante le carte ottenute Negli eventi Nella draft board E quant'altro In prima stagione Furono rese inutilizzabili Nei vari eventi Della seconda stagione E così via anche adesso Tutti quanti i giocatori Cominciando la seconda stagione Si ritrovarono allo stesso livello raro Anche se erano a livello Brestling Mania Che ai tempi era a livello massimo Della prima stagione E quindi tutto quanto Riminciato da capo Le carte quelle della prima stagione Potevano essere utilizzate Nella modalità esibizione Che adesso è la modalità wild Dove permette ancora Di giocare con queste carte In Ring Domination Road to Glory King of the Ring Non potevi giocare con le carte Della prima stagione Deve per forza Riminciare con quelle nuove Quindi tutti i giocatori Riminciati da livello raro Dovevano per forza Difarsi una strada Con l'avvento Della terza stagione Invece tutte queste carte Della prima stagione Furono messe In un nuovo menu apposito Legacy Che per essere più chiara Vi faccio vedere Perché qua Ho sempre l'account Quello che usavo Nella prima stagione Cristian Qui ho le carte Quelle della prima stagione Che adesso Vengono chiamate Legacy Carte eredità Che si possono appunto Vabbè Non ho giocato Che se Troviamo per esempio Avversari con carte strane Dove non vediamo neanche L'omino O la diva Vediamo una sagoma nera Quelle sono le carte Della prima stagione Che Soltanto il disegno Il ritratto Può essere scaricato Appunto tramite DLC Contenuto scaricabile Eccolo qua Comune Non comune Fino a Breslemina Queste sono Le immagini Delle carte Legacy Le immagini Della prima stagione E da tutte queste Spunte Tutte le immagini Verranno scaricate E vedrete tutte le carte Come erano Comunque ragazzi Le carte Legacy Per chi Non lo sapesse Sono queste qui Sono le carte Che finora Sono quelle Della prima stagione Eccolo qua Legacy comune Non comune Rara Fino a Breslemina Per esempio Breslemina Io ne avevo soltanto due E avevo per esempio John Cena Che era la mia Freebie Eccolo qua Queste erano le carte Della prima stagione Che adesso sono diventate Carte Legacy E ragazzuoli Ce ne erano Veramente tante Tutte queste carte Adesso sono Utilizzabili In tutti quanti Gli eventi Tranne La Wild Legacy Super rara Eccetera C'erano anche Addirittura Quelle della camera Difusione Della prima stagione S1 Quelli della prima stagione E comunque Vabbè Eccetera Brock Lesnar Ok Queste sono immagini Che vedete Magari anche adesso Che sono state Deprese appunto Dai veterani Immessi nelle carte Nuove Comunque Adesso Tanti di voi Avrete capito Magari dov'è Che voglio andare A parare Vi faccio vedere Che cosa sta succedendo Come avete detto Anche nei video passati In tanti video passati Quando completavo Anche Road to Glory O completavo Delle Ring Domination O magari Quando vi ho fatto vedere Come vincere Facilmente Alcuni match Ecco qua Siamo qua In Ring Domination E come vedete Quando carica il gioco Vi faccio vedere E qua Undertaker 9 vittorie 6 sconfitte Questo qui è un avversario Di livello super raro Questo perché Perché ho modificato Il mazzo Con tutte quante Le carte Il livello più basso possibile Potrebbe Vedate benissimo Mettere carte Di livello comune Io ho preferito Quelle non comune Perché tanto Perché è la stessa cosa E questo ragazzi Con il nostro Vince McMahon Sam Slam Della seconda stagione Quella carta fusione Il manager Che alza Tutti quanti I 4 parametri A 105 punti Con questo tipo di deck Che sarebbe Il deck A parere mio Il deck perfetto Potrete Vincere Qualsiasi match In Queen Ring Domination Stessa cosa Potrebbe succedere Anche in Road to Glory E tanti altri Anche in Emination Chamber Per esempio Sto usando Lo stesso tipo di deck Eccolo qua Con carte non comuni E Sam Slam Di Vince McMahon E a questo punto Ragazzi Avrete già sicuramente Capito Dove Cos'è che voglio Parlare Di cos'è che sta succedendo Cos'è che ho pensato Mannaggia Mi è stato in mente Ma se queste carte Che nella quinta stagione Verranno considerate Il legacy Quindi dalla carta comune Alla Sam Slam Saranno Messe Da parte E quindi La prossima stagione Da domani Il minimo livello Che avremo nel gioco Sarà il livello Temprato Tutte queste carte Saranno ancora Utilizzabili Negli eventi Si potrà ancora Andare a giocare In Road to Glory Oppure In Ring Domination Con questo tipo di deck Per dare la possibilità Di vincere Qualsiasi cosa E come avete visto Anche sicuramente Dal match E' molto semplice Vincerlo Con questo tipo Di deck Poi ovviamente Una volta che finiamo Il match Dobbiamo riavviare L'applicazione Per forti Altrimenti Andremo a prendere La carta Plessima Che in questo momento Non ci serve Anna Mazza Quindi andiamo di nuovo Sul deck E lo aggiorniamo Lo aggiorniamo A quello più forte Di tutti Per esempio Summyslam 17 Summyslam 18 Più più E questo è il deck Massimo Con questo deck Ti permette Ti permette Ti permette di vincere Ti permette di vincere E quindi ti fa Perdere tempo Specialmente Anche in una flash event Come questo Ring Domination Qua Che hai due giorni Di tempo E che potresti farli Benissimo Anche senza spendere Neanche un euro Velocemente in questo modo Tranquillamente Con un deck Scarsissimo Te ne vai A vincere Qualsiasi match Poi ti fai Un incontro Al tuo deck Normale Con un avversario Del tuo livello E ti vai a prendere Tutte le quante Le shard Della draft board Tranquillamente Ragazzi Qui abbiamo perso Per esempio Sai a 3 E ci sta Ci sta tantissimo Queste sono lotte Che probabilmente 50 e 50 Poi vincere O perdere Tranquillamente E ovviamente Ogni volta Che riavvi il match Si accumulano anche le shard Quindi Adesso andremo Spero a trovare qualcosa Qui Intanto come vedete Scelto un benjamin Carta Samus La 18 Purtroppo Non ce l'ho pro Sannaggia Speravo Che anche qui Ci fosse una Samus La 18 Che potevo fare pro Purtroppo Non è così Adesso manca Circa un giorno Non Cioè potrei anche andare A giocarmi All'amilità teorica Perché Potrei Il tempo ce l'ho ancora Poi se volessi shoppare qualcosa Tranquillamente ci arriverei Però Tanto Seth Rollins Non l'ho preso Dalla Ruttoglory Inutile prenderlo qua Io finisco qua Con Con un Scelto Benjamin E poi Mi Mi butterò Completamente Sull'altro evento In team Dove c'è Stone Cold A prendere Che già lo sto facendo Siamo già a un buon punto Poi comunque Vediamo un po' Se ci riusciremo E Intanto Intanto Vediamo se magari Qualche carta buona Ce la tira dietro E purtroppo Ormai la Reset L'ho presa ieri sera Quindi Sarà difficile trovare Un'altra Samuslam 18 Ho trovato Bobby Dashley Il terzo Quindi Comunque vabbè Andiamo a vedere Se magari troviamo qualche cosa E comunque vabbè Quello che volevo dire È questo Se queste carte Carte non comuni E comuni O anche fino alla Samuslam E quindi compreso Vince McMahon Che io ritengo Una delle carte Più potenti di questo gioco Che ci permette appunto Di fare ciò Se non potrebbero Se non potranno Essere più utilizzate In quinta stagione Beh le cose Si faranno parecchio Complicate Perché pensate Non qui Ma pensatela Nella Rotto Glory Per esempio Quando arriviamo A non fare più Match da 5 Sarà completamente Impossibile Vincere match Anche da 3 I match da 1 Diventano appunto Match del nostro Stesso livello E quindi Rimane la stessa Sistuazione 50 e 50 Di vittoria O perdita Se andiamo invece A combattere con un deck Tutto quanto non comune E un Vince McMahon Comunque con Dei supporti Abbastanza potenti Riusciremo a vincere Tranquillamente Tutti quanti i match da 1 E quindi a giudiarci Una vittoria dopo l'altra Anche in Rotto Glory È lunga Però è la La cosa più facile Che possiamo fare Però Se non abbiamo più La possibilità Di utilizzare queste carte Beh Sarà dura La prossima stagione Sarà dura E quindi Un po' più forza A combattere Hanno pensato Vedi Questi Daddy Hanno capito Com'è la situazione E quindi Ci stanno mettendo I bastoni Tra l'errore Annaggia Tu diremo Qualcos'altro Ma vediamo un po' Che cosa succederà Se Ok È un'ipotesi Probabilmente Non si utilizzeranno Più queste carte Potrebbe essere Che saranno Legacy Quindi utilizzabili Come quelli Della prima stagione Oppure magari Qualcosa Potrà ancora fare Quindi ci saranno Ancora utilizzabili Ci sarà ancora Una fusione apposita Quindi Non Non saprei E tutto quanto Da vederti Mancano ormai Poche ore Quindi staremo A vedere Quindi andiamo Perso malamente Da I'm of the ring E abbiamo preso 5 carte Estrazioni E vabbè Andiamoci anche I biglietti Ora Questi ticket Adesso Non li spacchetterei Adesso Aspetterei appunto Prossima stagione Perché Le cose che Hanno annunciato Va bene Nuove carte Nuove eventi Nel corso Della stagione Però non ho detto Che toglieranno cose Quindi Suppongo Che i ticket E le missioni giornali E le reciteranno ancora Tutto quello Che abbiamo adesso Ci sarà lo stesso Anche nella quinta stagione Quindi Anche per esempio Qua che sto Per prendere La carta ladder Ricompensa ladder Dei 60.000 incontri Eccola qua Dispo 60.000 partite Uomo casuale Se andessi a prendere adesso Mi dà una carta Samus nel 18 Se invece lo prendo Quando saremo In quinta stagione Quindi saremo arrivati Anche a livello gotico Io mi prendo la gotica Qua ragazzi Quindi È inutile starla a prendere adesso Come avete consigliato Anche voi nei commenti Su Instagram Quindi ottimo E vabbè ragazzi A questo punto direi Che posso non credere A questo ultimo video Di supercard Di questa quarta stagione Ci vediamo Prossimamente in quinta E vediamo ragazzi Che cosa succederà Quali altre novità Perché ovviamente Il changelog Quello che abbiamo letto Anche l'altra volta Nel scorso video È quello lì A grandi linee Però Non vedo l'ora di leggere Il changelog Ufficiale Che ci sarà anche Sulla pagina del play store Quindi Domani Nuovo update Nuove icone Nuovo tutto quanto Ragazzi Sarà veramente un gioco Che Veramente non vedo l'ora Di mettere le mani Su questo nuovo supercard Quinta stagione Che ci sarà domani Io ancora do a questo video Ragazzoli Come al sol Se vi è piaciuto Invece lasciate tanti Tanti like Seguite anche su Instagram Se non siete ancora iscritti Al canale Mi invito a iscrivervi Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti